problema di connessione. Siamo in un'altra serata di questi incontri culturali di montagna, questa sera è la volta della Commissione Medica Regionale della dottoressa Sita Dalgisa che ci parlerà dei rischi e pericoli in montagna. La lezione sarà in diretta, sarà registrata e poi vi invierò il link perché la troverete sul sito del Cailazio anche. Io prego, mi raccomando spegnete le telecamere e anche l'audio e video così la connessione sarà migliore. Al termine della lezione ci sarà un momento di confronto per chi vorrà fare le domande, magari potete anche prenotarvi sulla chat. Prego dottoressa. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, spero di essere all'altezza di questa serata di questa tecnologia per me difficile da praticare. Noi come Commissione Medica ci occupiamo dell'applicazione della conoscenza medica in montagna. Questa serata la dedichiamo agli accidenti, ai traumi, a tutto quello che può accadere in montagna e che può gestire un primo soccorritore, quindi non un esperto in medicina ma un laico. Quindi cosa può accadere in montagna e cosa si può fare in attesa di un team di soccorso specializzato. Prima cosa, sicuramente prima di iniziare un trekking, una gita, un'escursione in montagna è importante seguire delle regole che ci aiutano un po' anche a prevenire eventualmente alcuni incidenti che potrebbero capitare. Quindi prima fra tutto iniziare la gita sapendo le condizioni meteorologiche della giornata e quindi decidere in base alle condizioni se fare o meno la gita in montagna e adeguarsi, equipaggiarsi con mezzi precisi, quindi un equipaggiamento, un'attrezzatura idonei al tipo di attività che andiamo a fare, quindi il trekking leggero, il trekking attrezzato, eccetera, quindi sapere utilizzare tutti i mezzi che abbiamo. E se il tempo cambia, rinunciare alla gita non è una vergogna, insomma, quindi si può fare in un altro momento. Mai poi andare in escursione da soli, cercare di stare sempre almeno in due, in maniera tale che se accade qualcosa ad uno l'altro può essere utile e sapere quali sono i nostri limiti e quindi non fare gite che sappiamo che non potremmo poi portare a termine. E quando iniziamo il nostro itinerario dire a qualcuno dove andiamo e quindi che tipo di percorso andiamo a fare. E quindi questa è una minimo di prevenzione che si può fare per gli incidenti. Il, come dicevo prima, come ho appena accennato prima, tutti possiamo trovarci nelle condizioni di dover prestare aiuto a qualcuno e ci sono delle semplici manovre che se eseguite in maniera corretta possono aiutare una persona anche a salvargli la vita, perché no? Il primo soccorso quindi lo fa chiunque, chiunque si trova a essere testimone di un malore o di un trauma e che appunto presta il suo soccorso in attesa che arrivi un team qualificato. Importante, se accade qualcosa in montagna, che sia un malore, che sia un incidente, fare una chiamata, perché certo prestare soccorso e poi non chiamare aiuti vuol dire non andare da nessuna parte. Bisogna comunque sapere quando chiamare e come chiamare e chi chiamare. Quindi nel Lazio adesso c'è il numero unico 112. Si attiva questo numero, si digita questo numero, dopodiché si deve precisare che l'aiuto deve essere portato in un ambiente montano e quindi bisogna chiedere specificatamente del soccorso alpino. È vero che non sempre il nostro cellulare prende in alcuni ambienti, quindi si può cercare di trovare un altro gestore telefonico, quindi si può spegnere il telefonino, riaccenderlo, non digitare il PIN del telefono ma digitare direttamente il 112 e cercare, il cellulare dovrebbe individuare la rete più efficace per quel luogo per poter poi fare la chiamata di soccorso. Quando ci rispondono dobbiamo saper rispondere ad alcune domande, cioè dove è avvenuto l'incidente, cosa è successo, quindi il malcapitato ha avuto un trauma, ha avuto un malore, se sono più le persone coinvolte nell'incidente, che tipo di disturbi stanno avendo o sta avendo questa persona e poi presentarsi, dire chi è che sta chiedendo aiuto, da dove sta chiamando e deve dare anche un numero che può essere richiamato durante l'arrivo dei soccorsi per l'individuazione precisa. Sempre mantenere la calma, questo perché aiuta a essere più organizzati nel soccorso e anche per tranquillizzare la vittima del malore o dell'incidente, se in quel momento è cosciente. Prima di avvicinarsi ad una vittima, che sia da trauma, che sia da malore, bisogna sempre valutare lo scenario, quindi vedere se intorno al soggetto, al malcapitato, l'ambiente è sicuro, perché avvicinarsi ad una persona per portare di soccorso e poi diventare vittima noi stessi non porta a niente, quindi controllare che tipo di terreno c'è, se la vittima è stata coinvolta da una caduta massida o è scivolata perché il terreno è ghiacciato, quindi fare attenzione a tutto quello che è intorno al malcapitato e quindi poi capire se l'ambiente è sicuro per poterci si avvicinare. Bisogna raccogliere tutte le informazioni necessarie da poi dare ai sanitari quando noi facciamo la telefonata di chiamata, insomma di soccorso e questo perché anche i sanitari in questo modo si preallettano e fanno una specie di briefing che li porta a essere un po' più efficaci nel momento dell'arrivo ai piedi del malato. Nessuno di noi come primo soccorridore deve fare il medico, insomma non si deve sostituire al medico, deve saper fare delle cose ma non azzardare nulla che non sa fare, come detto prima deve stare tranquillo, non deve farsi prendere al panico per sé e per gli altri. Buona regola mai somministrare cibo o bevande a soggetti colti da malore o da traumi soprattutto, mai mai l'alcol, l'alcol è un potente vasodilatatore quindi provoca dispersione di calore e non fa bene quindi questa dispersione di calore sia in caso di ipotermia ma in caso anche di traumi. Se è avvenuto un trauma ed è stato un trauma severo, si sospettano fratture eccetera, mai cercare di muovere il malcapitato o trasportarlo perché si potrebbero procurare danni seri. Invece quello che si può fare è sicuramente proteggere il malcapitato come coprendolo, scaldandolo e quindi se portiamo con noi una metallina utilizzarla oppure utilizzare gli indumenti che abbiamo noi, se il soggetto è bagnato togliere gli indumenti bagnati e asciugarlo e coprirlo con indumenti asciutti, cercare di capire se stiamo di fronte a un caso urgente o no e niente quindi queste insomma sono le cose che il soccorritore deve fare. Importante sarebbe che ognuno di noi portasse nel suo zaino dei dispositivi di protezione perché è buona norma non entrare in contatto con sangue o liquidi biologici di altre persone, questo perché ci potremmo infettare e quindi importante sarebbe poter portare dei guanti e nel caso di una eventuale rianimazione cardiopolmonare per chi la sa fare, portare una pocket mask che ci aiuta a ventilare il soggetto senza entrare in contatto con la sua saliva. Quindi ricapitolando, nel caso di un trauma, di un infortunio bisogna sempre valutare quello che è stata la dinamica dell'evento, agire in sicurezza quindi considerare la sicurezza dell'ambiente in cui si sta, esaminare l'infortunato e capire che tipo di problematiche ha, quindi fare la chiamata di soccorso e dare notizie precise a chi vi sta ascoltando al telefono, mai togliere gli occhi dall'infortunato e fare quello che è più sicuro per il soggetto senza azzardare cose mai fatte e aspettare l'arrivo del soccorso qualificato se il soggetto è intrasportabile. Quando si dice che è una situazione urgente, quando la vita del malcavitato è in pericolo, una situazione grave quando però non c'è un vero pericolo di vita, l'urgenza è una cosa, la gravità è un'altra. Urgente è quando vengono compromesse le funzioni vitali di una persona, che possono essere le funzioni cerebrali, respiratorie e cardiocircolatorie. Cosa ci fa a capire se c'è qualcosa a livello nervoso, a livello centrale? Quando noi ci avviciniamo al soggetto che sta a terra e lo chiamiamo e lui apre gli occhi e ci risponde, questo vuol dire che è cosciente, che respira e che il suo cuore batte. Quindi questo ci fa stare tranquilli perché lo stato di coscienza non è alterato e quindi una funzione vitale è buona, cioè quella nervosa, ma è buona anche quella respiratoria e anche quella cardiologica, perché altrimenti non ci parlerebbe e non ci risponderebbe. Quando invece un soggetto non ci risponde, quando noi lo chiamiamo, lo tocchiamo, allora vuol dire che non è cosciente, questo è pericoloso. Allora lì bisogna dire, quando si fa la chiamata al 118, paziente non cosciente. Poi nessuno vi chiederà perché è difficile valutare quello che è il battito cardiaco o la funzionalità respiratoria, poi in montagna diventa ancora più difficile. Un soggetto che non ha avuto un trauma e che non è cosciente, in attesa dei soccorsi lo possiamo mettere in posizione laterale di sicurezza. In questo modo, se voi vedete, nella figura in basso, il soggetto messo in posizione laterale ha la testa iperestesa di lato e questo fa sì che vengano mantenute aperte le sue vie aeree e nello stesso tempo, se dovesse avere il riflesso del vomito, il materiale potrebbe fuoriuscire tranquillamente dalla bocca e non inondare le vie aeree e quindi soffocare il soggetto stesso. Quindi la finalità di questa posizione è quella di far sì che il soggetto continui a respirare e non si soffochi con un eventuale vomito. Possono accadere tante cose in montagna. Si può cadere, possiamo essere travolti dalla caduta di pietre, ghiaccio, neve, possiamo essere schiacciati. Quindi che cosa accade? Quanto più si cade dall'alto, più sicuramente il trauma è grave. Il danno può essere maggiore anche a seconda del tipo di terreno su cui si va a impattare o se si rimbalza o si rotola nella caduta. Lo stesso anche l'altezza da cui c'è un masso, una pietra, cosa viene colpito da questa pietra da l'entità del danno che subisce il soggetto. Se veniamo travolti da colpiti da una pietra, da un masso sul caschetto rotto e questo caschetto si rompe, vuol dire che la forza che ci ha impattato è importante e quindi bisogna stare attenti a questa cosa. Un soggetto che ha un caschetto rotto ha subito un urto molto importante. Il 10% di soggetti che all'inizio, avendo subito una caduta o un trauma da schiacciamento, che si presentano con parametri normali all'esame iniziale, poi invece presenteranno in ospedale la presenza di lesioni molto gravi, quindi non vi fate fuorviare dall'aspetto sano di un soggetto che subisce questo tipo di trauma. Veniamo ai traumi un po' più lievi. La contusione, che cos'è la contusione? È un trauma da schiacciamento delle parti molli, di tessuti molli, quali la cute e il sottocute. L'urto che cosa fa? Crea la rottura di vasi sanguigni, che possono essere piccoli o grandi e se piccoli si forma un libido, un echimosi, se grande è un ematoma. La cute, sovrappostante a questa chimosi o a quest'ematoma rimane integra, quindi non si lacera. Nella distorsione, camminando, molto facile, anche portando scarponcini adatti, può capitare che andiamo incontrando una distorsione. che cos'è la distorsione? La distorsione è l'allontanamento momentaneo di capi articolari di un'articolazione che escono e poi rientrano nella propria sede, provocando uno stiramento dei legamenti e delle capsule articolari. Questo provoca gonfiore, dolore, limitazione del movimento della zona colpita dalla distorsione. La lussazione è invece la perdita di contatto tra capi articolari, che può essere completa nella lussazione vera e propria, incompleta nella sublussazione, quando permane un punto di contatto tra capi articolari. Cosa succede? Chi è vittima di una sublussazione o lussazione ha un articolazione deformata, gonfia, tanto, tantissimo dolore e non riesce a muovere. Per esempio, nella lussazione di spalla non si riesce a sollevare il braccio, non si riesce a muoverlo tanto è il dolore. Cosa si fa in questi casi? Nella contusione, come abbiamo visto prima, si può applicare del ghiaccio e eventualmente applicare una benda non troppo stretta, che non deve alterare la circolazione sanguigna. Lo stesso nella distorsione, possiamo fare degli impacchi freddi e poi un bendaggio che possa immobilizzare un po' l'articolazione. Nelle lussazioni, mai cercare di riportare in sede la spalla lussata, fare sì che la persona trovi la posizione antalgica migliore, applicare del ghiaccio e portare la persona a chi poi sa rimettere in sede il capo articolare che è fuoriuscito dalla sede. Nelle fratture, cioè nelle rotture delle ossa, si ha un aspetto della zona fratturata gonfia, può essere anche arrossata, molto dolente alla palpazione e alla mobilizzazione stessa. La frattura può essere chiusa quando al di sopra dell'osso fratturato la cute rimane integra, mentre se la cute, sovrastante la frattura, è lacerata, si parla di frattura esposta. Nelle fratture esposte molte volte i monconi ossei addirittura fuoriescono dalla cute stessa, si vedono. È importante in questi casi far sì che la zona lacerata sia pulita, quindi va coperta con garze sterili o comunque panni puliti e se ci sono dei contaminanti all'interno della ferita vanno fatti dei lavaggi con dell'acqua, dell'acqua corrente. Cosa possiamo fare noi nel caso delle fratture? Dobbiamo immobilizzare la zona fratturata, questo perché il soggetto così sente meno dolore e nello stesso tempo i capi articolari fratturati non si muovono e non creano danni ulteriori ai tessuti circostanti, soprattutto a basi e nervi. come dicevo prima, se la frattura è esposta e quindi c'è una lacerazione della pelle sovrastante la frattura, bisogna coprire la zona con un telo pulito e non si devono usare alcol e cose del genere. Se c'è terra, possibilmente cerchiamo di levarla con dell'acqua, non altro. L'immobilizzazione, come vedete dalle figure, può avvenire anche con delle stecche di legno di fortuna o con le racchette o con qualsiasi cosa abbiamo di rigido. Anche la colonna vertebrale è costituita da ossa. L'unica cosa è che la colonna vertebrale ha una peculiarità all'interno del canale vertebrale, passa il midollo spinale. Quindi una frattura vertebrale può essere considerata semplice o amielica se il midollo spinale al suo interno non è coinvolto dalla lesione o se il midollo invece viene coinvolto si parla di frattura vertebrale mielica. Una situazione un po' bruttina e poi vi spiego perché. Normalmente come qualsiasi altra frattura c'è dolore, c'è deformazione e se si va a toccare la zona colpita il dolore aumenta. Se è coinvolto il midollo spinale tutto ciò che è al di sotto della lesione spinale ha problemi di tipo sensitivo e motorio. Più è alta la lesione spinale e peggiore della situazione. Perché? Perché si può avere una paralisi degli arti inferiori se abbiamo una lesione a livello lombare, lombare-toracico. Se invece la lesione è al collo si può avere una paralisi di tutti e quattro gli arti ma cosa più seria purtroppo all'inizio del midollo del midollo spinale c'è una zona che regola l'attività respiratoria e l'attività cardiaca. Quindi se dovesse essere coinvolta questa zona il soggetto potrebbe andare incontro anche ad arresto respiratorio o arresto cardiaco. Quindi è una situazione molto molto brutta e è un'emergenza vera e propria. Vedete queste sono delle immagini di una TAC che fa vedere una vertebra a livello toracico con tante piccole frammenti osse che vanno però entrano anche nel canale vertebrale e schiacciano quella corda che vedete bianca che è il midollo spinale. Questa è una lesione serissima. Un'altra cosa che può capitare è il trauma granico. Si batte la testa, la testa però è formata da cuoio capelluto, dalla scatola granica e all'interno del cranio c'è il cervello. Quindi la lesione può essere più o meno importante se viene coinvolto solo il cuoio capelluto, la teca granica o il contenuto cranico che è il cervello stesso. Chiunque è coinvolto in un trauma granico deve essere trattato con delicatezza perché come vedete dalla figura qui in alto a destra, la testa è connessa fortemente al collo, quindi un trauma che coinvolge la testa molto spesso coinvolge anche le prime vertebre cervicali. e quindi bisogna sempre sospettare che ci sia una lesione anche a livello cervicale e come vi dicevo prima, nella prima parte della colonna vertebrale c'è il midollo spinale ma anche il bulbo dove sono contenute quelle zone che controllano il battito cardiaco respiratorio che se lesionate danneggiano fortemente il soggetto e lo mettono in pericolo di vita. Quindi chi batte la testa deve essere messo in questa posizione neutra per evitare movimenti che possono creare lesioni a livello del midollo spinale cervicale. e la posizione neutra è quella. Quindi testa in linea, né troppo flessa in avanti né troppo estesa. con il trauma cranico... Dottoressa chiedo scusa, se hai bisogno di qualche minuto sospendi e poi riprendi, tranquilla dai. No no, mi è venuta un po' sta tosse però, ho l'acqua con me. Appunto per questo. Scusate. Allora dicevamo, nel trauma cranico, quello che può accadere, abbiamo detto, è una lesione a livello cerebrale che determina poi un'alterazione della coscienza del soggetto traumatizzato. Questo acronimo, AVPU, è molto semplice e ci dice che cosa possiamo trovare in un soggetto che ha subito un trauma cranico. Può andare tutto bene, il soggetto è cosciente, quindi è alert, è sveglio. Può essere un soggetto un pochino soporoso, però io lo chiamo e lui apre gli occhi. Quindi verbalmente con lo stimolo vocale si riattiva. Se invece per poterlo svegliare da questo stato soporoso e devo provocargli un minimo di dolore, allora avremo la P, AVPU. Quando invece il soggetto non risponde ai miei stimoli verbali, al mio tocco, alla procurare del dolore, allora il soggetto non è responsivo e stiamo veramente in una brutta situazione. Come dicevo prima, più la situazione è grave, più voi dovete mantenere la calma e se il soggetto non risponde, non respira, non ha battito cardiaco, allora lì bisognerebbe saper praticare quello che alcuni di voi già sanno fare, che è il BLSD, cioè la rianimazione cardiopolmonare, in attesa che arrivino i soccorsi. Quindi una cosa auspicabile sarebbe sempre che qualcuno nell'ambito della gita sappia fare queste manovre, da mettere in pratica, speriamo mai. Durante le escursioni noi ci possiamo ferire in vari modi, con un chiodo, con un coltello, con un sasso che ci contunde, possiamo avere un'abrasione della cute perché strisciamo su un terreno disconnesso, pieno di brecciolino. Le ferite vanno trattate fondamentalmente in maniera semplice, si lavano con dell'acqua, meglio se corrente, se stiamo noi a dover medicare un soggetto, non lo medichiamo con le mani sporche, ce le laviamo pure noi, no? Ci laviamo le mani, se è possibile ci mettiamo dei guanti, laviamo la ferita del malcapitato con dell'acqua, la disinfeziamo non con soluzioni alcoliche e la copriamo con delle garze, possibilmente sterili. Se all'interno della ferita noi vediamo dei corpi estranei, non li rimuoviamo perché quel corpo estraneo potrebbe stare lì a chiudere un vasellino, un'arteria e quindi toglierlo potrebbe provocare una emorragia maggiore oppure se è leso un tendine, un nervo, potrebbe provocare delle lesioni maggiori. Quindi facciamolo fare a chi lo sa fare in ospedale. Le emorragie sono la fuoriuscita di sangue da un vaso sanguigno, se questo vaso sanguigno è un'arteria uscirà sangue a fiotti, sarà sangue rosso vivo e la perdita sarà cospicua. Quando a essere leso è un vaso venoso, il sangue esce in maniera molto più costante, il suo colore è rosso scuro, ma anche lì la perdita può essere cospicua. Una lesione di un capillare è minima, la perdita di sangue è veramente minima. Questo nelle emorragie esterne lo vediamo visivamente e possiamo in qualche modo agire. Se l'emorragia è interna, io non la vedo, non so che c'è ed è sicuramente un evento molto insidioso, molto pericoloso, che porta molto spesso poi a dover operare un soggetto in urgenza per andare a tamponare questa perdita. Cosa si può fare nelle emorragie esterne? Cosa è molto semplice. Sicuramente mettiamoci guanti se ce li abbiamo per non entrare in contatto con sangue altrui. Dopodiché si comprime la zona dove sta fuoriuscendo sangue con delle garde sterili possibilmente. Se essere coinvolto è una, per esempio qua vedete nella figura, un polso, noi possiamo sollevare la zona sanguinante in maniera da provocare una riduzione proprio della flusso di sangue. Quando noi mettiamo le bende per tamponare comprimendo poi non le togliamo e le cambiamo e mettiamo altre pulite ma dobbiamo continuare a sovrapporre garde su garde in maniera tale da evitare di portare via quel coagulo che si sta formando. Se noi togliamo e mettiamo garde su una ferita sanguinante non facilitiamo la formazione del coagulo. Se essere coinvolto a un grosso vaso il soggetto va incontro a quello che si chiama shock emorragico una situazione molto seria. Un soggetto che è colpito da una perdita cospicata di sangue va incontro anche all'alterazione del suo stato cognitivo. All'inizio può essere agitato, poi diventa confuso alla fine perde coscienza, è pallido, è sudato lo vedete che respira velocemente e in questi casi molte volte non basta comprimere solo la zona che voi vedete sanguinare ma dovrebbe essere compressa l'arteria principale tra la ferita e il cuore e questo si fa come? Applicando un laccio emostatico Allora, se si deve fare, si fa che si applica il laccio emostatico se l'emorragia non si ferma però vi dovete ricordare quando avete applicato questo laccio emostatico perché chi arriva poi a soccorrere il soggetto deve sapere quanto tempo è passato dall'applicazione del laccio alla poi quando questo laccio si toglierà questo perché? Perché una volta che si applica un laccio emostatico il sangue nella porzione a balle del laccio non arriva più non c'è più circolazione sanguigna e nella zona dove non c'è più circolazione sanguigna si accumuleranno una serie di molecole nocive per l'organismo questo perché? Perché normalmente il metabolismo cellulare continua anche se non circola sangue si utilizzano altri substrati che però poi portano alla produzione di sostanze che sono nocive per l'organismo quindi quando poi si ripristenerà la circolazione sanguigna queste sostanze entreranno in circolo e potranno causare danni severi cardiaci, renali e quindi è bene sapere quanto tempo quella zona è rimasta senza circolazione sanguigna questo per far sì che il soccorridore sanitario attui tutte le procedure idonee alla ripresa della circolazione sanguigna in quel soggetto quindi quello che voi dovete fare è fondamentalmente guardare l'oraio nel momento in cui mettete il laccio e poi lo riferite al soccorridore non dovete fare altro voi il laccio mettetelo però lo dite l'ho messo alle 13.30 ok? altre emorragie possono essere più o meno importanti possiamo avere delle epistassi cioè emorragie nasali dovute a traumi del volto possiamo avere traumi dell'orecchio a volte l'emorragia dall'orecchio può essere in un trauma cranico sinonimo di una lesione molto importante che riguarda la base cranica quindi attenzione se vedete del sangue in un soggetto che batte la testa se vedete del sangue che esce dall'orecchio quando fate la chiamata ai soccorsi ditelo sta uscendo del sangue dall'orecchio il mio amico ha battuto la testa gli esce sangue dall'orecchio e questo è un campanellino d'allarme per chi verrà a soccorrerlo in montagna può accadere anche questo cioè possiamo essere vittima di un fulmine cosa succede quando accade questo entra una quantità notevole di elettricità all'interno del corpo che si fa strada lungo i nervi e lungo i vasi ematici del nostro organismo entra e poi trova un'uscita vedete qua entra da una mano e poi fuoriesce dal piede tutto il percorso che fa questa corrente elettrica viene coinvolto da una lesione che è fondamentalmente di tipo necrotico cioè i tessuti che vengono colpiti che vengono attraversati vanno incontro a morte cellulare e a seconda di quello che è colpito per esempio se in questo passaggio viene coinvolto il cuore il soggetto può avere delle aritmie addirittura un arresto cardiaco quindi quando un soggetto viene coinvolto da una corrente elettrica dovete fare attenzione prima di avvicinarlo e capire se questa corrente elettrica era un fulmine se ci sono altri fulmini se potete essere anche voi vittima di una fulminazione e poi questo soggetto per forza deve essere ospedalizzato perché deve essere tenuto sotto controllo per valutare l'entità della lesione che ha subito in montagna possiamo anche essere vittime di ipotermia l'ipotermia che cos'è? è un abbassamento della nostra temperatura corporea intorno sotto i 35 gradi questo accade quando la temperatura esterna è più bassa di quella nostra corporea quindi il nostro calore viene disperso nell'ambiente oppure noi non lo produciamo in maniera etonia e quindi perdiamo calore possiamo perdere calore in vari modi per esempio per conduzione cioè cadiamo in un laghetto gelido e per contatto il nostro calore passa dal nostro corpo caldo all'ambiente esterno che è più freddo oppure lo possiamo perdere per convezione per esempio quando non abbiamo un abbigliamento idoneo c'è vento e quindi il nostro calore intorno alla pelle viene portato via dal vento e non c'è tempo di riprodurre calore quindi ci raffreddiamo in continuazione anche con l'evaporazione quindi anche attraverso le viere o con la perdita di acqua attraverso la pelle possiamo avere una sottrazione di calore importante quindi sono tutti i meccanismi di perdita di calore che poi a lungo andare possono portare a ipotermia e a seconda del grado di temperatura che noi raggiungiamo possiamo avere possiamo avere una ipotermia più o meno grave nei primi due gradi di ipotermia che voi vedete il soggetto che ne è afflitto è cosciente nel primo caso ha brividi nel secondo caso no e mano a mano che perde calore le sue funzioni vitali si rallentano rallenta la frequenza cardiaca la frequenza respiratoria insorgono aritmie cardiache fino alla perdita della coscienza e fino al quarto grado quando la nostra temperatura corporea scende sotto i 24 gradi il soggetto può sembrare addirittura morto perché diventa rigido non si vede l'attività respiratoria non si percepisce il battito cardiaco cosa possiamo fare noi in caso di ipotermia sicuramente nel primo e secondo grado quando il soggetto è ancora sveglio quello che possiamo fare è proteggerlo trasportarlo in un luogo caldo coprirlo con indumenti asciutti soprattutto la testa va coperta che è una zona dove c'è una forte perdita di calore se il soggetto lo può fare favorire i suoi movimenti muscolari per produrre calore e in questo caso ma solo in questo caso si possono somministrare cibi e bevande calde non alcol perché come dicevamo prima l'alcol baso dilata e quindi favorisce la dispersione di calore e non frizione con la neve perché un'acute di un soggetto ipotermico è un'acute molto più delicata che può andare incontro più facilmente a lesioni e a quelli che noi chiamiamo geloni soggetti che hanno un'ipotermia di terzo e quarto grado avevamo visto sono soggetti incoscienti e quindi sono soggetti che hanno bisogno di un intervento medico immediato vanno mossi in maniera molto cauta questo perché perché un soggetto ipotermico severo ha due tipi di temperature all'interno del suo corpo una temperatura più bassa nella zona esterna del corpo e una temperatura un pochino più alta all'interno, nel core muovendoli cosa succede? noi favoriamo il miscelarsi di questi due sangue quello più freddo e quello più caldo e questo fa sì che nel sangue più freddo in cui si sono accumulate delle sostanze tossiche si miscoli con l'altro sangue un po' più caldo entrino in circolo e determinano soprattutto problemi di ritmo cardiaco quindi soggetti ipotermici vanno mossi con caudela per la paura che si possono innescare delle aritmie maligne che portino anche all'arresto cardiaco quindi movimentare sempre un soggetto ipotermico non cosciente movimentarlo sempre molto cautamente e se è necessario se valutate che non c'è ritmo cardiaco che non c'è respiro iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare se si conoscono cosa predispone all'ipotermia? ci sono degli eventi che predispongono tipo l'alcol tipo il fumo tipo l'utilizzo di droghe la presenza di malattie come il diabete come il reno che alterano il microcircolo la disidratazione può facilitarre ipotermia un abbigliamento non idoneo l'utilizzo di scarponi o guanti molto stretti che impediscono una corretta circolazione sanguigna e il fatto di stare in alta quota espone all'ipotermia variazioni di temperature repentine espongono all'ipotermia quindi la prevenzione che noi possiamo attuare è quella sicuramente di indossare un abbigliamento etoneo di evitare guanti e scarponi stretti evitare di fare una gita quando le condizioni meteo lo sconsigliano fondamentalmente in montagna un'altra cosa che può accadere è di incontrare questo animaletto velenoso un morso di vipera è molto tipico perché voi vedete c'è il segno dei due denti veleniferi cosa che non c'è se voi vedete le due figure gialle a sinistra il morso della vipera con sopra quei puntini più grandi che sono i segni dei due denti che inoculano il veleno e invece l'altro è il morso di un serpente innocuo che comunque è un morso infetto e quindi va trattato come tale un soggetto che viene morso da una vipera è un soggetto che non si deve affaticare non si deve agitare questo perché l'affaticamento e l'agitazione aumentano la circolazione e quindi favoriscono la immissione in circolo del veleno non si deve incidere la zona morsa non si devono fare tentativi di aspirare il sangue con la bocca non si devono applicare lacci non è indicato l'utilizzo del siero antivipera che può essere molto più pericoloso e può portare anche a shock anapirattici severi e non bisogna dare alcol a questi soggetti perché vasodilatando favoriamo un'ulteriore messa in circolo del veleno cosa facciamo? allora sicuramente non muoiono immediatamente questi soggetti vanno tenuti tranquilli la zona che viene morsa viene vendata con un vendaggio compressivo buono questo per evitare la immissione in circolo maggiore del veleno e poi si porta il soggetto in ospedale e lì poi i sanitari faranno quello che si deve fare che fondamentalmente è l'osservazione anche in ospedale adesso è poco indicato l'utilizzo del siero antivipera fondamentalmente si osservano questi pazienti si fanno delle analisi per vedere se ci sono alterazioni della coagulazione fondamentalmente e poi si agisce di conseguenza insomma la morte da morso da vipera è alquanto poco frequente tutto quello che sono le lesioni da sole si possono prevenire semplicemente con l'utilizzo degli occhiali con l'utilizzo di una buona protezione solare con indumenti idonei e idratandoci l'idratazione in montagna è importante per tanti motivi quindi in montagna si deve bere sempre anche quando non si ha sede anzi soprattutto quando non si ha sede perché un buono stato di idratazione ci aiuta a superare tante situazioni tra cui anche le lesioni da sole per chi fa arrampicata può accadere anche quest'altra cosa si può avere una sindrome da sospensione cioè un soggetto si sta arrampicando cade e rimane sospeso attaccato ad una corda e rimane praticamente come sospeso nel vuoto con gli arti inferiori in basso e la testa in alto e ci sta lì per un tempo tot cosa accade in questo soggetto? questa è la situazione del soggetto sospeso accade che praticamente negli arti inferiori rimanga intrappolata una non debole quantità di sangue venoso che vista la presenza dei cosciali che comprimono i vasi femorali al linguine porta praticamente a una riduzione del ritorno di questo sangue verso il cuore quindi al cuore arriva meno sangue e quindi ne pompa di meno quello che si che accade è che praticamente si ha la simulazione di un vero e proprio shock ipo-polemico quindi uno shock da riduzione del contenuto sanguigno quindi come se il soggetto avesse una emorragia questi segni di ipoperfusione si presentano molto precocemente anche solo dopo 10 minuti dall'avvenuta sospensione e il soggetto che ne è colpito sente un malessere generalizzato può avere vertigini, ronzii comincia a sudare, ad essere pallido ad essere stordito fino a perdere la coscienza e a morire se lo shock è prolungato e quando noi andiamo a aiutare un soggetto che è rimasto sospeso dobbiamo pensare questo che quando lo tiriamo giù non lo dobbiamo mettere immediatamente sdragliato questo perché quel sangue che è rimasto fermo, stagnante negli arti inferiori se noi mettiamo subito il soggetto sdragliato facciamo sì che questo sangue ritorni velocemente in circolo verso il sangue il sangue lo pompa e lo rimette nell'organismo ma in quel tempo di sospensione di ristagno del circolo le cellule hanno immesso tanti materiali di scarto del metabolismo e tante molecole che producono danni soprattutto a livello renale e quindi quando noi recuperiamo il soggetto sospeso lo dobbiamo tenere fondamentalmente seduto seduto e poi piano piano ma questo deve avvenire in mezz'ora 40 minuti possiamo sdragliarlo ok? quindi ci dobbiamo ricordare questo quando aiutiamo una persona in questa situazione che lo tiriamo giù e lo teniamo seduto mai sdragliato subito altrimenti possiamo arregargli gravi danni scusatemi la prevenzione della sindrome da sospensione è sicuramente quello di non andare ad arrampicare da soli ma di essere sempre in due in maniera tale da essere soccorsi se accade il prima possibile e di usare materiali di tonio ve l'ho menzionato più volte questa rcp cioè la rianimazione cardiopolmonare se ci troviamo di fronte a un soggetto che per qualsiasi motivo che sia un trauma che sia un malore che è incosciente che pensiamo non avere battito cardiaco e attività respiratoria dobbiamo avendo effettuato nel frattempo la chiamata di soccorso dobbiamo cercare di aiutare applicando la rianimazione cardiopolmonare questo per dare una chance a quel soggetto nel mentre arrivano i soccorsi quindi chi lo sa fare deve praticare un massaggio cardiaco e una ventilazione adeguate in attesa di un supporto avanzato e va bene queste sono alcune manovre di lateralizzazione dei soggetti traumatizzati vedete nel trauma come ho detto prima è importante mantenere il collo sempre in asse e quindi vedete questi signori stanno mettendo in posizione laterale il soggetto ma mantengono sempre allineata la testa con la colonna vertebrale in maniera da evitare flessioni o estensioni del collo questa è un'altra immagine che fa vedere come si mette in posizione laterale un soggetto non cosciente ma che ha attività respiratoria e attività cardiaca e questa è la posizione questa è un'altra manovra che potremmo poter fare che si dice apertura delle viere quando il soggetto è incosciente e abbiamo paura che sta respirando che però da lì a poco possano respirare più perché che cosa succede un soggetto incosciente può perdere il tono dei muscoli e quindi tra i muscoli anche la lingua e un muscolo può se perde tono cadere indietro e chiudere le viere e quindi impedire poi la respirazione di un soggetto incosciente questa manovra molto semplice fa sì che la lingua torni in avanti e le viere rimangano pervie questi sono gli scout che sono varie figure che fanno vedere come si può trasportare un soggetto che ha avuto un trauma come si può aiutare come si può tirare su e caricare un soggetto sempre e queste sono le cose che uno dovrebbe portare con sé in montagna nel caso servissero e sono i guanti per la nostra protezione le garze sterili i cerotti un disinfettante che non sia alcolico la metallina che ci aiuta a coprire il soggetto soprattutto se ipotermico traumatizzato la pocket mask che utilizza chi sa fare una ventilazione bocca a bocca e basta questo è io vi ringrazio e scusate se vi ho spediato dottoressa sono io a ringraziare te sempre precisa nell'esposizione grazie mille grazie a voi allora se ci sono domande da fare prego potete anche fare ne faccio una al volo io Mennina Giovanni direi Coletti prego Giovanni mi è capitato di soccorrere una persona che ha avuto un colpo di valore è stata parecchio tempo senza copicapo in montagna e di soccorrere di soccorrere di soccorrere